Il calcio è senza pace. Il ciclone scommesse non accenna a perdere potenza, anzi con il passare dei giorni, delle rivelazioni e delle indagini acquista sempre più forza e cieca brutalità mediatica. Per il momento produce una nuova raffica di arresti, 19 per la precisione, tra i quali quelli del capitano della Lazio Stefano Mauri. Tutto per un'inesorabile ed irriverente regia alla vigilia degli europei. Sì, perché per sequestrare documenti, iPad e telefonino al difensore azzurro Mimmo Crescito, si è proceduto ad una perquisizione nel Tempio della Nazionale Italiana di Calcio, Coverciano. Ma una folata dell'Uragano investe anche il leccese Antonio Conte, allenatore della Juventus, indagato per associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. La polizia ha perquisito anche l'abitazione del tecnico. Ad accusare Conte, come è noto, è stato l'ex giocatore del Siena Carobbio, secondo il quale l'allenatore sarebbe stato a conoscenza della presunta combine messa in atto lo scorso anno, quando Conte era allenatore del Siena, fra la squadra toscana e il Novara. Dichiarazioni in realtà smentite da altri compagni di squadra di Carobbio, ma le quali evidentemente gli investigatori continuano a dare peso. Conte si è sempre difeso, dicendosi tranquillo e pronto a chiarire tutto, e lo ha fatto di nuovo al fianco del suo presidente Andrea Agnelli, in una conferenza stampa straordinaria. Ho sempre dimostrato integrità, morale, onestà, correttezza in tutte le situazioni, sia da calciatore che da tecnico. Ribadisco la mia assoluta estraneità a qualsiasi tipo di fatto, mia dei miei calciatori. Nell'inevitabile furore mediatico si tira in ballo anche l'altro difensore della Nazionale ed ex Bari, Leonardo Bonucci, per presunte combine all'epoca del Bari, ma l'iscrizione nel registro degli indagati, se verrà fatta, sarà fatta formalmente dalla procura di Bari. Stessa procura è titolare del fascicolo d'indagine che riguarda la squadra pugliese in cui militava Bonucci all'epoca dei fatti. Spetterà dunque ai magistrati pugliesi vagliare la posizione del giocatore, chiamato in causa dal suo ex compagno di squadra, Andrea Masiello.